Inizieremo un esercizio di conduzione in slalom. Come prima variante inseriamo un tocco di interno, quindi alternando destro-sinistro. Come seconda variante noi inseriremo invece la conduzione della palla sempre in slalom attraverso la suola del piede. Terzo esercizio, effettueremo una conduzione in slalom sempre con la suola ma all'indietro. Quarto esercizio, effettueremo sempre uno slalom ma alternando la rullata con la suola di un piede e lo stop con l'interno del piede opposto.